Dov'è Piero? Piero? Vado via? Piero, vieni sul palco, Piero. Piero? Piero? Chiamatelo un po', vediamo se arriva. Piero? Aiutatemi voi. Piero? E niente, non vuole venire. Piero? Vabbè, ma che gli dico? No, volevo dire una cosa. Magari sta facendo. No, perché mi manca un po', cioè. Si sta riposando. Sento un po' la mancanza. Vabbè, allora. Diciamo che noi quest'anno abbiamo voluto cambiare il duetto. Negli altri anni abbiamo sempre cantato, non so, Maria o altre cose, con Getta. No, scherzo. No, abbiamo sempre cantato altre canzoni. Quest'anno ci siamo sentiti, prima che iniziassi il tour, ci siamo detti cosa cantiamo quest'anno? Cosa possiamo proporre di nuovo? Di emozionante? Perché alla fine questo è bello del nostro genere. che è un genere romantico, emozionante. E quindi, dove ci possiamo spingere? Perché non cantare una poesia? Vuole essere ricordata, signore? Mi lasci il numero di telefono? Io intanto le scrivo. Messaggino. Come stai, TTVB? No, no, comunque, fammi fare serio, signore. Allora, ci siamo sentiti. Cantiamo una poesia. Anche perché finiamo da un periodo un po' brutto, no? La dico alla Gelo Cacinobre, perché sennò l'avrei detto in modo diverso io. Periodo proprio di... Brutto, brutto, brutto. Dal Covid, due anni e mezzo, tutti a casa, non ci possiamo vedere, tutte. Adesso la guerra, e quindi veniamo davvero da un periodo bruttissimo. E ancora continua, purtroppo. Allora ci siamo detti, perché non dedicare una canzone a chi non ce l'ha fatta, a chi ci guarda oggi da lassù, a chi è stato più sfortunato di noi. E quindi questa sera vogliamo dedicare a coloro che ci guardano da lassù questa canzone che non ha bisogno di presentazioni. La cantiamo e basta. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia 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 A Shoah Alleluia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.